salve ragazzi continuiamo su questa scia delle modellazioni con le t spline questo oggi vediamo come realizzare a un oggetto comune come tutti noi purtroppo a prescindere dalla zona climatica dove viviamo la pioggia più o meno lo conosciamo tutti e di conseguenza tutti abbiamo utilizzato un ombrello nella vita bene mentre nel gruppo di alessio alessio di annone il master class di binario print ho realizzato un video in cui vi mostro come reali come creare il cinematismo dell'ombrello qui invece andiamo a vedere come costruire la parte della stoffa diciamo dell'ombrello purtroppo non lo possiamo fare parametricamente se ci affidiamo naturalmente alle t spline per i tanti motivi che vi ho sempre sottolineato tante volte quindi in realtà quello che andiamo a fare un modello statico certo non cinematico e però lo faremo in modo molto simpatico introducendo qualche anzi forse sottolineando qualche dettaglio di quelle che sono le t spline va bene perfetto vediamo come possiamo creare questo ombrello velocemente allora innanzitutto io la prima cosa che farei è creare la struttura ok allora per la struttura non perdiamo troppo tempo facciamo una cosa molto banale facciamo che ne so un manico molto molto semplice ok magari se questo è troppo lungo lo possiamo accorciare poi potete divertire ovviamente a dare l'aspetto che più vi piace insomma ovviamente ecco magari una cosa che qui potremmo fare subito e dire che questi due punti sono diametrali quindi vedete ho fatto un diametro che congiungere con gli opposti così lo possiamo stringere senza che ci dia troppo fastidio ecco qua iniziamo a generare già il primo raggio anzi no meglio di no facciamo quindi il manico come pipe ok questo pipe o è il pipe che è troppo sottile oppure no semplicemente niente è successo qualcosa non so diamo uno spessore insomma più manico si deve poter mantenere insomma così potrebbe potrebbe andare non gli è piaciuto qualcosa cosa non gli è piaciuto un e mezzo potrebbe andare bene no non la distanza perdonatemi in questo ecco per la distanza qui fa una cosa strana non si prende non si prende guardate che cosa simpatica vabbè vediamo la testa al topo sto pezzo qui non lo voglio più perfetto ecco chissà perché forse ho fatto qualche errore nel disegnare boh chissà 8 adesso questa parte qui che lui non ha voluto fare in quel modo me la faccio come con un bel press pool non è vero una bella estrusione che press full lo sapete che continua a questa cosa qui magari è carina da far vedere la differenza tra usare un press pool e un'estrusione l'estrusione è per l'appunto la proiezione di una di un determinato profilo in questo caso il profilo è quello lì della sezione del pipe nella direzione ortogonale al profilo stesso quindi questo vi fa capire che innanzitutto il profilo deve essere piano altrimenti non è intercettabile come profilo innanzitutto affinché poi esista un'unica direzione ok rispetto alla quale possiamo fare questa estrusione potete fare tutte le operazioni che sono consentite dall'estrusione tra cui la rastrimazione ovviamente sotto certi angoli mentre invece il press pool che cosa fa individua qual è la diciamo la generatrice geometrica analitica di questa superficie e gli dice di continuare vedete che la generatrice di questa superficie di fatti è un toro vedete questo qui è un toro e quindi stiamo spostando semplicemente il piano di taglio di questo toro facendo così vedete adesso è una questione stilistica poi arrivato a un certo punto ovviamente spostando questo piano andiamo a intercettare vedete pure l'altra porzione del toro fa un po di casino però insomma potrebbe anche darsi che così questo ombrello ci piace di più il manico ok magari che ne so possiamo un pochino non lo so sto giocando sto giocando ok modellazione libera perfetto questo diciamo il manico la parte di sopra lasciamola così al momento facciamo la struttura raggiera che è quella lì tipica ovviamente e come la facciamo mi voglio mettere questa volta su un nuovo piano di disegno bene questo e creiamo state attenti degli archi perché lo sapete che quando l'ombrello è in tensione si prende questa forma arcuata grazie al fatto che ci sono dei raggi interni che lo consentono questi raggi interni adesso se volete li possiamo costruire in modo molto semplice non stiamo qui adesso a discutere di come è fatto la cinematica di tutto l'ombrello facciamolo così una cosa semplice va bene così ok quindi vedete che ho fatto ho creato questi tre questi quattro insomma pezzi non andremo a creare i dettagli di come è fatta la cerniera e tutto quanto perché ripeto esula le diciamo le non mi viene la parola esula le gli obiettivi di questo di questo tutorial perdonatemi allora facciamo quindi tutta una serie di pipe ovviamente facciamoli più piccoli questa volta vedete che purtroppo non possiamo selezionare più pipe se non consecutivi quindi io adesso faccio così guardate l'ho già fusi con questo perché mi piace così per fare una cosa semplice questo lo fondo con quello però sto attendo a disattivare questo per evitare che si fonda anche sul manico centrale dopo vi spiego perché in realtà per evitare questa cosa quando fate il join potreste non lo fa fare dovrebbe apparire qui l'elenco degli oggetti con cui fondersi non appare quindi non fa nulla facciamo così disattiviamo il body e facciamo così perfetto quindi abbiamo praticamente creato questa struttura fatta in questo modo poi prendete un ombrello di riferimento insomma per vedere come è fatto però questi sono i classici ombrelli quelli che poi qui si piegano al centro e si chiudono con se pare un po' più spazio vabbè perché ho fatto questo pezzo da solo perché così adesso posso fare una cosa fantastica che è il pattern circolare di questo solo pezzo intorno a quest'asse ma se per esempio di questo cilindro gli dico che ne voglio 8 per esempio e ottengo già la struttura del mio ombrello perfetto abbiamo fatto una struttura veramente in pochissimi secondi ritorno un attimo su questo sketch faccio la punta il puntale di questa di questo ombrello lo faccio molto semplice perché non voglio perderci tempo diciamo così poi facciamo un arco mi piace l'idea dell'arco fatta così e poi chiudo con un altro arco così in questo modo ok diciamo che questo lo facciamo su un'asse di simmetria quest'asse di simmetria lo prendo in questo modo vedete come centerline questo lo attacchiamo qui questo lo attacchiamo qui l'asse di simmetria magari se non siamo questi sarebbe meglio va bene va bene così dai non perdiamoci troppo tempo ho detto non ci volevo perdere troppo tempo fatelo come ripare insomma adesso questo coso che abbiamo qui lo usiamo facciamo un solito di rivoluzione lui capisce subito qual è il solito rivoluzione da fare e lo facciamo non lo so lo fondiamo con questi raggi ma sì dai va bene ovviamente togliamo sempre quel body in questo modo otteniamo tra l'altro un unico body qui per tutta la raggiera mi rendo conto subito che forse sono stato un po ho lesinato un po con le dimensioni di questo oggetto me lo vado a modificare guardate che figata direttamente qui così vedo subito come sta cambiando che mi sembra che adesso perdonatemi ovviamente questo qui ho dimenticato di fissarlo fissiamolo se no che volta si muove questo l'attacchiamo lì e insomma abbiamo fatto sto puntare dai va bene adesso vogliamo fare la la stoffa diciamo così no la parte quella lì apparentemente più complicata insomma da realizzare come la facciamo bene io partirei per assurdo da un cilindro mi chiede mi chiede potreste chiedere come mai dal cilindro bene parto dal cilindro per un motivo molto banale perché il cilindro mi darà la possibilità di creare delle geometrie circolari che si ripetono con un numero di ripetizioni che per esempio pari proprio ad otto perché otto è il numero dei raggi che abbiamo scelto va bene ma da dire è più complesso che da far vedere quindi abbiamo detto parto dal cilindro ok magari cilindro parto da questo piano qui ma no facciamo che io mi creo torno un attimo indietro mi creo un piano di offset di questo qui di base perdonatemi ho smaiato a selezionare oggi sto un po ok questo piano di base lo facciamo traslare lì su ok così partiamo da qui per creare il nostro famoso cilindro quindi partiamo da qua va bene perfetto creiamo il cilindro e lo facciamo largo quanto il nostro ombrello va bene che ne so fino a qua perfetto adesso dobbiamo stare attenti allora innanzitutto il numero di diameter faces deve essere pari ad otto perché a otto il numero dei raggi che abbiamo scelto le high faces invece per assurdo possiamo darne anche addirittura una sola e vi faccio vedere che così facendo la cosa diventa molto semplice va bene dovete attivare però qui in simmetri la simmetria circolare vedete che adesso questi otto raggi vi appaiono verdi questo vi fa capire che il tutte le modifiche che faremo ad uno di questi lati verdi seguirà automaticamente anche sugli altri lati perfetto andiamo a vedere che cosa che cosa facciamo adesso allora prendiamo questo cerchio e lo chiudiamo intorno a questo a questo tappo insomma questo puntale del nostro del nostro ombrello va bene come lo si fa edit for ok vedete che già ho selezionato tutto questo cerchio mi raccomando non selezionato solo una porzione altrimenti il centro di spostamento qui vi risulta traslato fate doppio clic così selezionate tutto il cerchio e con questo doppio clic andiamo a scalare vedete in modo proporzionale utilizzando questo simbolo con le tre frecce questa è la scalatura tridimensionale va bene se vogliamo fare una cosa precisa ci mettiamo qui sul top e andiamo a vedere perdonatemi devo togliere la rotazione eccolo qua ci mettiamo sul top e andiamo a vedere quando è che più o meno stiamo attivamente alle dimensioni del puntale mi sembra che così ci siamo ok dopo di che ovviamente lo dobbiamo traslare verso il basso e ci andiamo a collocare esattamente dove sta il nostro puntale quindi diciamo qui il cerchio esterno invece lo spostiamo semplicemente verso il basso in direzione ovviamente di dove chiudono i nostri raggi ok diciamo che più o meno così potrebbe andare dobbiamo essere più precisi ci mettiamo nella vista così ed ecco qua diciamo che più o meno ci siamo ovviamente questo sembra un ombrellino cinese non va bene come fatto dobbiamo dargli la curvatura bene allora ecco che vi faccio vedere in modo molto pratico per dare la curvatura allora vi consiglio innanzitutto di mettervi su un piano su uno dei piani qualsiasi tanto di raggi sono otto e tutti quanti hanno un piano su cui possono essere proiettati attivate qui selection filter e attivate i vertex vedete che vi appaiono queste manigliette vedete muovendo queste manigliette diamo la curvatura al nostro ombrello ok le manigliette qua giù sono scomparse aspettiamo che li appaiono probabilmente stanno sotto eccola qua purtroppo c'ho questo problema non so se l'avete riscontrato anche voi che dopo un po che facciamo una modifica scompaiono le manigliette va bene non esageriamo se vogliamo essere ancora più precisi ci andiamo a mettere su un piano di sezione quale piano questo qui va benissimo così vediamo rispetto alla struttura di sotto come stiamo creando la nostra superficie ok adesso possiamo andare a fare delle correzioni un po più di fino quindi nello specifico selezionando edge per esempio prendiamo questi edge qui che andiamo a spostare mi raccomando il doppio clic per essere sicuri di selezionare tutto il profilo ok e lo spostiamo preciso qua per esempio allo stesso modo facciamo giù sempre doppio clic mi raccomando va bene così dobbiamo solo stringere un l'arco ok vabbè con questi snap che ciò non mi aiuta tantissimo poi diventiamo le dimensioni provare nel fatto troppo piccolo e attivando sempre le manigliette andiamo ad aggiustare meglio il profilo mi raccomando quando spostate questi questi maniglietti del profilo utilizzate solo la freccia questa qui verso l'alto ok così evitate di dare delle torsioni strane al posto ombrello perfetto togliamo l'analisi e vediamo che già il nostro ombrello ha assunto una forma perlomenata ombrello che cosa manca un dettaglio molto importante in realtà tra un raggio e l'altro l'ombrello che cosa fa fa una piega giusto fa una piega che scende quindi questo qui così come lascia un po a desiderare insomma come ombrello non ha proprio proprio un aspetto realistico come facciamo per creare questa questa cosa allora andiamo ad aggiungere qui su questa faccia un segmento intermedio e lo facciamo con insert edge ok quindi andiamo su uno dei due lati lo possiamo mettere esattamente al centro vedi vedete che 0.50 vuol dire esattamente al 50 per cento della distanza con legge successivo quindi per noi va bene vedete che automaticamente creato un edge si creano tutti gli altri anche sulle altre facce perché la nostra geometria vi ricordo che è una geometria circolare vedete e a questo punto possiamo giocare con questo edge e dare quell'aspetto già così vedete che è apparsa più o meno una forma che è quella che ci serve perché leggi nuovo che ha creato non segue esattamente il profilo del legge precedente ma già una forma diversa va bene noi andiamo a modificare ulteriormente quindi per esempio prendo questo edge qui ci vado a spostare questo vertice per esempio ok siccome vi dicevo mettiamoci sempre su un piano ok così vediamo rispetto a questo piano com'è lo spostamento che stiamo facendo ebbe qui ci conviene metterci nello spazio della selezione perché ovviamente questa non è allineato più rispetto al sistema di riferimento globale quindi per fare uno spostamento un po più coerente con questa indietà geometrica che stiamo andando a modificare conviene fare in questo modo ok quindi lo possiamo spostare vedete e subito appare l'effetto come se fosse un ombrello vedete ok penso che più o meno posso andare bene che cosa c'è da aggiustare però vedete che il lembo di sotto è troppo ondulata e soprattutto va fuori dal piano dell'ombrello quindi in realtà dobbiamo rendere piana questa figura bene in più non abbiamo lo strumento adatto per fare questo che si chiama flatten dove selezionando i vertici di tutto vedete di tutto questo gruppo di quest edge gli possiamo dire che devono essere allineati rispetto ad un piano per fare prima io vi consiglio di fare in questo modo fate doppio clic in modo che selezionate tutto questo lembo dopodiché andate a creare questo flatten e selezionate io qui vi consiglio di usare il select parallel plane in cui dite voglio che questi vertici di questi edge che ho selezionato siano appartenenti ad un piano che è parallelo per esempio non ce lo fa vedere così sembra il fatto che scompare ecco qua ah questo qui perfetto in pratica lui che cosa ha fatto? vedete ha parallelizzato letteralmente tutti questi vertici affinché fossero paralleli cioè diciamo che ha allineato tutti questi vertici affinché siano appartenenti ad un piano che appartiene poi a sua volta ad un fascio di piani paralleli che è quello che ho selezionato vabbè ovviamente facendo tutte queste operazioni quello che è potuto accadere è questo che vedete la struttura non è più rispettata forse ecco qua da quest'altro lato ma non c'è niente di più semplice che andarla ad aggiustare in questo modo ed ecco fatto e abbiamo aggiustato il nostro ombello forse qui bisogna intervenire un altro po' su questo modo questo qui ok ovviamente vi potete divertire ad intervenire anche sui nodi di questi nuovi vertici che abbiamo fatto apparire però insomma va bene va bene in modo qualsiasi ovviamente io ho fatto solo otto raggi poi potete divertirvi a farne quanti me ne pare ok in realtà mi viene in mente che forse all'aspetto pratico questa tangenza qui è un po' troppo diversa dalle altre quindi me la vado un attimo a sistemare infatti è rivolta verso il basso e sto aggiustando questa maniglietta qua vedete che sta là dietro non ho capito perché quando muovo la vista scompaiono lo faccio uscire un po' più fuori così la parte di sopra dell'ombrello diventa un po' più coerente perfetto come sappiamo l'ombrello in realtà prende questa forma particolare solo nella parte di sotto qui ho sbagliato a spostare abbiamo detto prima conviene utilizzare lo spazio delle coordinate locali ecco qua ok sembra carino non ve ne pare perfetto diciamo giusto un piccolo dettaglino che mi piacerebbe aggiungere a questo ombrello la punta proprio delle strutture ah vedete qui forse ho spostato troppo ritorniamo qui e aggiustiamo questo vertice ok quando ho spostato l'altro ovviamente se sarebbe venuto anche questo ecco qua ma potrebbe andare anche bene ma possiamo aggiustare meglio quindi perché non farlo ok ok penso che così dovrebbe andare bene ok dai ci siamo quasi allora volevo aggiungere un altro dettaglio che forse era simpatico da far vedere allora aggiungiamo pure un poco questo puntale facciamo un po' più grande vedete così sicuramente ci va la stoffa dentro in più dicevo volevo aggiungere un altro dettaglio prima ancora di creare questo pattern circolare qui sulla punta volevo fare una punta piccolina carina simpatica come la facciamo? la facciamo lavorando di estrusione facciamo dire un'estrusione così che va verso l'esterno poi una nuova estrusione capito perché non si vede la freccia ok boh qualcosa di strano è successo che va verso l'interno e mi viene una nuova estrusione non lo so non lo volevo fare in un certo modo posso più fare una punta insomma che dove finisce l'ombrella così quando facciamo il pattern circolare ce li ritroviamo tutte e quando finiamo il nostro disegno viene una cosa così forse un po' troppo corto allora facciamo per la prima estrusione facciamo un po' più lunga ovviamente quando lavoriamo con questi angoli di taper poi succedono queste cose perché giustamente è parametrizzato allora facciamo una cosa ancora più furba mi vado a spostare visto che oggi abbiamo parlato del press pull mi vado a spostare questa faccia un po' più gioco la cosa furba di fusion è che lo fa seguendo l'arco vedete perché abbiamo usato il press pull a differenza di prima che stavo usando invece per avere l'estrusione ok quindi press pull spero che in questa lezione vi sia chiaro che cos'è la differenza tra il press e il pull ah per assurdo è successa questa cosa strana bene non mi ha spostato le estrusioni vabbè cancelliamo le estrusioni vedete che c'è di nuovo e non mi piace come avviene da prima quella cosa penso neanche a voi quindi faccio una cosa diversa adesso ah qui vedete ho fatto qualche qualche movimento in consulto su questo piano ho sbagliato e anche qui c'è la possibilità di andare a sistemare questa situazione vedete qui che è successo ho sbagliato il sistema di riferimento quindi è successa questa cosa un po' un po' antipatica insomma vedete ho creato questo profilo storto anche qui c'è la possibilità di andarla ad allineare come allora faccio in questo modo adesso vado a selezionare i vertici che voglio allineare quindi questo e questo ok flatten type lasciate control points e come piano parallelo rispetto al quale voglio allinearmi seleziono ovviamente questo qui vedete adesso sono stati allineati bene perfetto allora dicevo non mi è piaciuto tanto come era venuto prima quella forma quindi decido di farlo in un altro modo un altro modo forse che sembrerà più complesso in realtà non lo è e come lo faccio? allora vado a costruire su questo su questo cerchio un asse come lo costruisco l'asse su questo cerchio? così seleziono questo cerchio attivo 3D sketch ok e costruisco guardate cercando il cerchio del centro proiettiamo prima il cerchio per ottenere il centro purtroppo il centro non me l'ha proiettato vabbè perché ha perso probabilmente ha perso il riferimento geometrico come in quanto cerchio è probabile eh sì non me lo vede più come cerchio infatti vedete che se togliete la proiezione vedete che lui in realtà più che un cerchio l'ha fatto come una serie approssimata di tanti di una spline e questa cosa qui purtroppo dipende dal press pull che abbiamo fatto prima ok quindi vabbè perché il press pull ha distorto questo cerchio non è più un cerchio esatto vabbè poco male insomma non è che dobbiamo per forza complicarci troppo la vita facciamo in questo modo quest'asse qui vi dico che che mi interseca in questi due punti il mio cerchio ok a questo punto rispetto a questi due punti vado ad intercettare quello che è il centro e mi muovo nella direzione di quest'asse blu ok ok adesso devo fare una linea ecco qua adesso abbiamo un'asse che è normale ok a questo cerchio vado a disegnare qui sopra adesso stando attenti ovviamente alla direzione dove mi muovo dove mi sposto quelle punte che volevo fare prima in modo complicato anzi qui magari facciamo direttamente un arco diciamo che vogliamo spostarci su questo piano mi raccomando selezionate quel piano ok diciamo che così potrebbe andare ecco qua abbiamo fatto questa specie di birillo insomma va bene questo qui magari facciamolo diventare asse di centerline perfetto adesso fatto questo disegnino possiamo fare il suo di rivoluzione in questo modo è un po' più carino mi sembra un po' più simpatico andiamo a vedere quindi come è l'effetto finale è forse un po' più simpatico insomma vi potete divertire a creare questo dettaglio insomma come meglio credete bene qui state attenti a non fare la punta troppo appuntita perché sennò poi pericoloso usare questo ombrello ok perfetto vabbè come sempre andiamo a dare un po' ah qui c'è ancora una piccola compenetrazione comunque il concetto che vi volevo trasmettere è questo cioè che voi potete andare a modificare successivamente anche se le spline ovviamente le t-spline non sono parametriche potete andare a modificare questo aspetto delle t-spline dopo aver creato dettagli successivi ok vedete io per esempio questo dettaglio qui della punta l'ho creato alla fine e adesso mi vado a giocare la posizione finale vedete di questo di questo pezzettino sulla base di questo ok quindi potete veramente giocare come evitare vedete l'ho fatto così ok poi qui nella realtà sarà immagino una una cucitura insomma qualcosa che sia più vicino al tubo quello che è perfetto diciamo possiamo dare a questo punto un po' un aspetto più realistico a questo ombrello facciamo il manico di legno così lo impreziosiamo attenzione che mi ha preso tutto ok la struttura mi ha messo lui in realtà sta dando ah perdonate abbiamo dimenticato un piccolo dettaglio che non è da trascurare dobbiamo dare spessore ovviamente a questo tessuto che adesso vedete diventato di legno potrebbe anche essere carino ma ha poco senso quindi andiamo a dare spessore a questo tessuto non lo so 0,2 vediamo cabine fuori una cosa sottile va bene ok e direi a questo punto di fare tre componenti diversi a cui adesso andiamo a dare dei materiali diversi ok quindi per esempio la struttura metallica facciamo nera black oxide va bene la struttura metallica è questa e vediamo se esiste qualche tipo di tessuto che potrebbe andare bene per fare la parte dell'ombrello ovviamente qui vi potete divertire a metterci quello che vi pare vedete qui ci sono questi qui effetto tessuto oppure se volete lo potete fare traslucido ci sono materiali plastici che potrebbe andare bene vedete ci sono materiali traslucidi simpatici insomma che potete divertirvi magari i fan di How I Met Your Mother potrebbero volerlo giallo perfetto e questo era il mio ombrellino fatto di t-spline avete visto con le t-spline si può fare tutto abbiamo fatto un ombrellino sfruttando il fatto della simmetria circolare abbiamo visto per l'altra volta per quanto concerne il cerchio in lega vi potete veramente sbizzarrire a fare qualsiasi forma l'unica cosa bisogna stare attenti ovviamente tutti gli spostamenti che facciamo avete visto anche io sbagliato tutti gli spostamenti che vanno fatti vanno fatti nel sistema di riferimento giusto quindi state attenti e cambiate spesso qual è il sistema di riferimento rispetto a quale vi state spostando scegliendo ovviamente opportunamente in base alle vostre esigenze quello che più vi fa comodo io come sempre vi ringrazio per avermi seguito spero che vi sia piaciuta anche questa lezione nel caso non l'aveste già fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per ricevere gli aggiornamenti sulle prossime pubblicazioni alla prossima